28 e 29 ottobre, di nuovo la quarta edizione, sempre la mostra d'oltremare di questo evento che ormai è diventato molto atteso dalla città, è diventato un cult simpatico alla città. Il mondo della canapa è in costante evoluzione negli ultimi anni, quest'anno ci saranno tante novità, tante novità da quanto già si evince dall'opinione pubblica, insomma sta un po' cambiando sul tema e tante imprese, tanti produttori si stanno affacciando sul mercato italiano con nuovi prodotti, non voglio spoilerare, ci saranno tante novità. Si stanno riproponendo le caratteristiche storiche della nostra regione nell'ambito della coltivazione della canapa che sta ritornando in auge grazie a piccoli imprenditori che sta rinascendo la filiera e la rete della canapa abbandonata per 50 anni.